266 contagi ogni 100.000 abitanti in una settimana. Questo è il dato a retino comunicato dal presidente della regione toscana che ha relegato la provincia di Arezzo in zona rossa da lunedì 15 marzo. Il dato più importante è che saranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, nessuna deroga per nidi e materne. In zona rossa sono consentiti spostamenti solo per motivi di lavoro, salute o necessità. Il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre consentito, così come quello in seconde case ubicate dentro e fuori il territorio regionale. Non è consentito fare visita ad amici o parenti, a meno che non si tratti di persone non autosufficienti. Chiuse al pubblico tutte le attività di ristorazione e bar, comprese pasticcerie e gelaterie, consentito l'asporto dalle 5 alle 18 e dalle 18 alle 22 soltanto per i ristoranti. La consegna a domicilio è consentita. Soltanto alcune tipologie di attività commerciali potranno restare aperte, si tratta quindi dei servizi considerati essenziali, niente scarpe e abbigliamento. Rispetto al precedente decreto, con il DPCM in vigore dallo scorso 6 marzo, è stata introdotta la chiusura in zona rossa anche di tutti i servizi alla persona, parrucchieri, barbieri, centri estetici. Resta consentito lo svolgimento di attività sportiva solo in forma individuale ed esclusivamente all'aperto in prossimità della propria abitazione.